Tutte le lettere non spedite. Prima o poi impazzirò definitivamente e mi ritroverò d'improvviso a Londra, ad Hyde Park, dove c'è un angolo in cui la domenica qualsiasi mattarello può dire ciò che vuole e finalmente lì farò i miei discorsi e spedirò le mie lettere mai spedite. Jesus Christ is a myth! Jesus Christ lived 2,000 years ago, and he doesn't exist anymore! God can reach the parts that nothing else can reach, and just as you need a McDonald's to fill your tummy, so you need the bread of life! Jesus said, I am the bread of life, but sustained! He was unjustly tried, he was robbed, he was whipped, he was scourged, he was ratified! So God has no choice but to abandon man! God is a righteous and just judge! God will not abandon his people! The Holy Spirit of the living God can come into our hearts and change our hearts and make us new people in sight! For us, italiani di sinistra, il modello deve essere l'Emilia Romagna, la regione in cui ci sono i migliori asili del mondo! I migliori servizi sociali, i migliori ospedali, legga, faccia leggere, faccia conoscere il contenuto della lettera, faccia circolare, poi una lettera del 1991, cara terza rete della radio, la rete di sinistra doveva essere... Lo so l'intre Hasta la ciumà doveva agitata. Da! Sì, sa! Chup chum bo bo, acca chum bo, chup chum bo bo.